Il sindaco ha parlato nel suo discorso della prevenzione sul territorio, soprattutto dopo i danni causati dalle ultime piogge. Si occorre fare prevenzione, credo che l'agricoltura e coltivare le terre sia un metodo per fare prevenzione, perché se si aumenta la superficie coltivata, le terre sono chiaramente presidiate dagli agricoltori ed evidentemente avremo meno danni in caso di eventi alluvionali tipo quello delle scorse settimane. Il Comune è quindi attivo da questo punto di vista ad aiutare gli agricoltori? Il Comune è attivo e disponibile ad ascoltare tutte le richieste di chi voglia operare in questo settore che vedo comunque in crescita negli anni futuri, vista la crisi economica generale italiana e il processo di deindustrializzazione che è in corso in questo momento nel Paese, quindi vedo un ritorno al coltivare le terre come i nostri avi.